Buona stasione a tutti, grazie a tutti. Buona stasione 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 a tutti. il presidente Francesco Corrado. Buona stasione a tutti. 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 Grazie a loro, che alla Casa Catturino se n'ha in tutte le gare che si vede la stagione. Anche a loro un grosso applauso. Vi saluto tutti i ragazzi e la sua parola è tutto bene.